Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La Sette è un premier che si è presentato alle Camere quando c'è stato il vostro di fiducia e ha detto delle cose ben precise rispetto a quella postura antifascista, il rigetto di ogni forma di estremismo, di ogni forma di negazione della democrazia, ivi compreso quella fascista. E quella che il 25 aprile ha mandato una lettera a un importante organo di stampa nazionale e ha detto delle cose ben precise. Il 16 ottobre c'è stata in occasione della commemorazione dell'astrellamento di Roma. Quindi il giochino di qualcuno, di immaginare di poter portare il Presidente del Consiglio, tirarlo per la giacchetta e portarlo in una sorta di permanente audit rispetto a quella che è l'ortodossia antifascista, fa bene il Presidente Melone. Parla con i fatti di un governo che per la postura che ha preso sull'immigrazione e sul rapporto... Non deve dimostrare nulla. Ma non deve dimostrare nulla, lo dimostra con i fatti che altri non hanno fatto. Noi abbiamo, siamo un governo che abbiamo denominato il nostro rapporto con i paesi africani Piano Mattei, quindi per dare il senso di una postura non predatoria nei confronti di quel paese. Ora ci arriviamo, infatti. Quindi voglio dire, tante altre cose potrei dire di quelle che sono le linee di azione che il Presidente Melone ha messo in campo. Quindi parlano i fatti, per molti parlano le parole, per il Presidente Melone parlano i fatti. E non c'è bisogno, quindi lei dice, di una sua esplicita dichiarazione sui fatti che non c'è nulla con quel mondo. Ma lo ha già fatto, come le ho citato solo tre, peraltro momenti importanti, alcuni anche di carattere fondativo, discorso di insediamento del governo. Lei dice che quelle parole ci sono già state. Allora il giochino di immaginare che per non so quale motivo il Presidente Melone dovrebbe ogni tanto rinnovare questa sorta di certificazione, di purezza democratica e altri no, io credo che faccia bene il Presidente Melone a respingere l'ammittente. Allora facciamo un passo in avanti prima di arrivare all'immigrazione.